Ciao ragazzi, qui per Anormal Comics e benvenuti in questo nuovo video Ci andiamo a rigiocare la finale dei mondiali, perché? Perché non abbiamo avuto l'occasione di provare la modalità di nuovo World Cup e la volevo provare Quindi si è già giocata, ha vinto l'Argentina La bambina brutta c'è anche per l'Argentina C'è anche il Qatar, ma quanto è bello Quanto è bello pensare che l'Italia l'abbia vinto nel dubito assieme Che noi eravamo vivi e che anche se piccolissimi la ricordavo Io la ricordo, mi ricordo come vedevo carnavalo in tv C'ho dei ricordi bellissimi, anche se chiaramente molto deboli La voce è bassissima dopo il fine futurire che abbiamo appena registrato Forse l'avete già visto, forse no Queste le squadre, io sarò la Francia, sicuro l'Argentina E quindi proveremo a vedere se Mbappé è capace di vedersi la sua rivincita Oppure c'è uno c'è, uno c'è, uno c'è, uno c'è Leo c'è, me lo assicuro tu Si si si, era a fianca Alvarez Qui i miei francesi, eccoli qua Ma direi che è tutto pronto E vediamo un po' la finale del mondiale Su FIFA girula allarga da kundi che era giusta fare di bene ma poi aspetta però abbiamo il di martin e il dv colui che ha causato fare impensabile la finale del mondiale veramente l'impensabile ma non ci pensare proprio attenzione cosa stavo vedendo e papo e papo creduto è un attenzione che parte l'argentina parte l'argentina lo scavetto e lui è lui è l'unico è l'unico è l'inimitabile e l'erete di diego armando maradona è incredibile e il balletto adesso che bel gol è guarda qua c'è quadrato a fermarmi anche in modo passato ma qualosca letto è qui qui guarda la sto questo sarebbe stato bellissimo da vedere live no vedere del mondiale questo avrebbe fatto crollare lo stadio in catara sfruttato posizione un po' defilata per sfondare la volta voglio promessi massi in mezzo alla gente oh era fuori gioco però ah no è fatto in attacco fuori gioco che bello fuori gioco ti conosci io lo sapevo che sbagliavo noo oh 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 siamo pazzi e dai bappo ma l'argentina non ha paura di mbappé è due sitili potentissimi angolo dai va bene Adriaan E' uguale proprio Adriana Adriana Rocky Bappo Bappo Uuuuh E' il divolo E' pazzo E' smuiloco Mamma mia E' partito E' lui E' l'incornata L'incornata 2-0 argentino In un recupero che devo dire Forse è molto più umano Di quelli visti Durante il mondiale in Qatar 7-7 Che poi si adattano molto A quello che era FIFA una volta E segnavi 1-0 Io devo imparare Qualche sostanza nuova 2-0 Palle Oh Oh Dimentico Se l'avessi fatta prima Avrei detto prediction Speriamo di no Spoiler Almeno per me Che palle No ma devo fare un cambio tecnico Ah Iniziamo a capire l'allenatore Si era giocato parecchio Questa partita Guardabile Guardabile Proprio Questo si chiama piede duro Mi hai scassato No È rigore quello Anche no Come farò l'essere rigore Non lo so Ma che merda Stilati in argentino No Dai ringrazio come se fosse il rigore Con Di Maria Non è vero Non è vero Non c'è Attenzione Manca troia Ma come vola Martinez E poi vabbè Io avrei giocato con l'argentina volentieri Mi trovo costritto a usare la Francia Però vorrei vincere Chiaramente Dai Messi Ma piede per coca Bella per coca Bella per comand Vola 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 Bello questo Sono belli interventi 8 rigori mancanti alla Francia Dico solo questo Dai rabbio Comand Di qua Di là Comand Ma che ha giocato De mele Ha giocato su grossi Io in pezzo Per aiutarti Dai Chiaramente Non lo fai cagare Mi stai facendo capire un cazzo Frate Bene Oh Ancora Vai 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 Teo Vola Vola E facimmo il gol Mamma mia Che schifo Dai Vamos 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 Argentina La Francia La Francia E' la Versa Due volte Amma mia Non mi Mi raccoglio Non è ancora detta E' buffata ora E' l'ottantesimo E' recuperata Dotto la Francia Siamo lì Mimicata Siamo l'ottantesimo Che io te lo dico mappo piglia sta palla mappo piglia non andrà come l'altra volta speriamo ma non credo in parte ne lo speriamo madonna che numero ma porca miseria alvare scampieri del mondo no troppo preziosismo eh cazzo di me ma sei tutto fatto ma ti svegli che bella teo perna dai comanda cazzo non comanda niente il debu il debu è vero bim bum ba bellante oh fallo rigure rigure cazzo 18 metri pure l'ancara l'ancara vabbè vuoi entrare nella storia del calcio non accadrà un tiro proprio da l'ancara non è vero no ci siamo andati veramente vicini caspita anche la fragia è la realtà qua batte il calcio d'angolo ci vedremo comunque la oh a porta a porta come avessi guarda devi far il 3 a 1 di merda cos'era dai stavo tirando oh ragazzi 2 a 1 vengono una partita contro Gaetano vabbè il replay di quello che è successo è la realtà più o meno dai dai vabbè oh il gol ma appena aveva fatto pure hai messo solo al Baris era il rigore di Di Maria che mi sono perso il rigore di Di Maria no ho procurato la Di Maria qui vedremo il festeggiamento con la Zandicoppa in dubbio aspettiamo e vediamo cosa succede bellissimo però sta modalità forse sarebbe bello fare una piccola serie fatecelo sapere pure voi se vi piacerebbe vedere con l'Italia magari che riproviamo a fare no proviamo a fare tutto quanto il percorso mondiale tanto ho pochi episodi sarebbe una per un episodio in gironi una per il sodio qui non lo costringono a mettere quella turca orrenda che va pure con il regolamento FIFA e vamos la campione del mondo bellissima la coppa bellissime le grafiche e sono fatto un buon lavoro ci ho provato ma purtroppo l'Argentia è più forte ragazzi eh sì veramente anche qui su FIFA sono stati straforti e qui Messi porta la coppa eh sì sotto i propri tifosi bellissima questa scena bellissima comunque questo spin off diciamo di zio e questi è finito bello bello venga è stata una bella partita speriamo che vi sia piaciuta ricordo lasciate un like iscrivetevi se ancora avete fatto e ci vediamo al prossimo episodio bella e ci vediamo al prossimo episodio grazie a tutti